Chiara Ferragni e Fedez sono impegnatissimi con i loro rispettivi progetti lavorativi Il cantante 32enne sta promuovendo la sua hit estiva La Dolce Vita E sta organizzando il concerto evento Love Me Durante cui avrà luogo la reunion attesissima con i lunghi L'imprenditrice digitale 35enne Invece è alle prese con la sponsorizzazione delle sue collezioni di abiti Di trucchi e di gioielli A quanto pare i due coniugi saranno presto Di nuovo Impegnati con un progetto che li coinvolge entrambi La seconda stagione della serie tv Te Ferragni Sta per tornare? La docu serie firmata Amazon Prime video incentrata sulla vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez Secondo quanto spifferato da D'Agospia Avrà un seguito Al momento non ci sono notizie ufficiali Il portale curato da Roberto D'Agostino dice che si tratta di qualcosa totalmente Al momento Top secret Chiunque faccia trapelare qualcosa a proposito Infatti È soggetto a penale D'Agospia afferma che non solo i Ferragni e Z starebbero progettando la seconda stagione Della loro serie A quanto pare Come affermano alcune voci Può darsi che i due coniugi abbiano già iniziato a girarla Bisogna pensare che è passato praticamente un anno tra il momento in cui la prima stagione è stata girata e il momento in cui è stata rilasciata sulla piattaforma Gli eventi mostrati in Te Ferragni Sono infatti risalenti al periodo intercorso tra dicembre 2020 e la primavera 2000 La serie è stata poi resa disponibile lo scorso dicembre 2021 È possibile quindi che Tra riprese Post produzione e promozione Chiara Ferragni e Fedez abbiano già deciso di darsi da fare per fornire ai loro fan del nuovo materiale su di loro abbastanza presto Te Ferragnez ha mostrato i coniugi di casa Ferragni Lucia in una veste insolita Il fil rouge della serie è consistito Infatti, nelle sedute di terapia di coppia svolte dai due Che si sono messi a nudo cercando di normalizzare questa pratica La serie ha poi mostrato l'avventura sanremese di Fedez Classificato secondo al festival del 2021 insieme a Francesca Michelin E la gravidanza di Chiara culminata con la nascita della piccola Vittoria Resta da vedere se e quando arriverà il comunicato ufficiale che confermerà l'arrivo della seconda stagione di Te Ferragnez Chiara Ferragni D'altronde Qualche giorno fa ha anticipato ai suoi followers che giugno sarà un mese pieno di sorprese Qualcuna di esse avrà a che fare con la docu-seglie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti